Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Lorenzo e oggi siamo su un nuovo blog che oggi ho comprato un box intero, ma con tre buste, poche, tre buste di 4,80 cioè 5 euro, papà me l'ha comprata oggi tre buste di un super peco o quello che sia, quindi vediamo quello che ho trovato. E' emergenza, una carta magia, poi a l'u, a l'u, a l'u, a l'u, a l'u, cus, druido, vedere della luce, poi reiki, reiki, cristallo, maglio magico, che ne trovate 11 però, 33, oh, bravo del giudizio. Eleptum, errore elementare, fusione, Venominov, il re dei suoi effetti per l'u, un'altra fusione, grande convergenza, quello che sia, questa, poi caduta nel sistema, relaccio dei cristalli. l'agrattore bestial l'amplice la roba alcova alcov lago della luce finale credi 2600 puntone prigione dimensionale arcobaleno gravitazionale rubel il incubo bestia cristallo mammoth prisma elementare vincolo di potere merisius comandante disco gradiatore bestia la quari e quindi questo è la busta che ho aperto oggi quindi raga vi lascio vi lascio un vi lascio il link alla foto di l'Uma e quindi ci vediamo al prossimo video